Questo corso di intelligenza artificiale è stato dedicato fino adesso a capire come poter replicare nelle macchine le potenzialità di ragionamento, di inferenziali, deduzione soprattutto, ma anche abduzione e induzione logica sulle macchine. E per rappresentare la conoscenza abbiamo introdotto fin dall'inizio la logica del primo ordine. Adesso, avvicinandoci alla fine di questo corso, vorremmo fare un salto di qualità un po' pericoloso, un po' fumoso, sicuramente che sfugge al val di là di quella che è la preparazione culturale di un tecnico informatico o di un ingegnere. E cioè, ci poniamo la domanda, sì, ma innanzitutto una predomanda, ma questa logica del primo ordine sarà poi, che è nata per rappresentare concetti astratti come quelli legati alla matematica. Può anche essere utilizzata per rappresentare conoscenza di senso comune? Ma questa domanda ce n'è dietro anche un'altra, più grande ancora. Ora, ma come è possibile utilizzare delle formule, cioè dei simboli, per rappresentare la conoscenza? È possibile farlo? È possibile farlo in maniera univoca, in maniera tale che poi dopo i significati che si danno alle formule possono essere associati a dei concetti che possono essere innanzitutto comunicati in maniera corretta da un agente artificiale a un essere umano o da un agente artificiale a un altro agente artificiale. Ma questa correttezza però presuppone appunto che si dia uno stesso significato ai simboli, ai simboli, alle costanti, ai predicati, alle formule stesse. Beh, tutto questo presuppone che si abbia innanzitutto una condivisione di come è strutturata la conoscenza. Questo non possiamo darlo per scontato, anzi è un bel problema, è un problema grande grande in effetti, perché non possiamo mai essere sicuri che a uno stesso termine, a una stessa formula agenti diversi associano lo stesso significato. Innanzitutto dovremmo chiedere cos'è il significato. Per noi esseri umani il significato è un qualche cosa di molto profondo che ci porta ad associare un insieme di sensazioni, se volete, che abbiamo acquisito e continuiamo a acquisire fin dalla nascita, che viene associato a termini, parole, e non possiamo essere sicuri in linea di principio che due esseri umani associino lo stesso significato agli stessi termini, a parte le differenze di linguaggio, ma anche se si parlasse lo stesso linguaggio i significati che si danno a termini costanti, funzioni o predicati potrebbero essere anche molto differenti. E allora c'è bisogno di una riflessione approfondita che, ripeto, probabilmente va al di là di quelle che sono le competenze di un tecnico informatico, che ci vuole certamente una preparazione culturale di altro livello, ma dobbiamo sostanzialmente ragionare sulla conoscenza e su quanto e se e come la conoscenza può essere rappresentata in simboli, che poi dopo è quello che fa la logica. E cioè ci poniamo al problema della rappresentazione della conoscenza. Lo introduciamo in questa unità didattica, poi ne esegueranno altre due in cui cercheremo di approfondire un pochino le problematiche e poi nella seconda e nella terza vediamo alcuni formalismi che sono stati utilizzati per rappresentare in maniera più o meno efficiente la conoscenza. Ma intanto è possibile rappresentare in simboli la conoscenza di senso comune? E' possibile farle in maniera tale che non ci sia ambiguità sui significati che vengono dati a questi simboli? Sì? No? Non lo so? Probabilmente no. Comunque questo tema, il tema di come rappresentare la conoscenza, è un tema complesso e noi usiamo una parola per descrivere tutta la complessità, la parola è ontologia, cioè vogliamo cercare di capire se è possibile definire una ontologia. Cioè un ragionare, un logos sulle proprietà dell'essenza delle cose, l'essenza delle cose, l'essenza degli oggetti, le relazioni e come vedremo soprattutto il concetto più importante è la categorizzazione proprio dei concetti. E' possibile farlo in maniera univoca, in maniera non contraddittoria, non problematica? Beh, questi sono un po' gli argomenti che dovremmo affrontare, ripeto, cerchiamo di farlo con molta umiltà e sicuramente non faremo altro che scalfire leggermente la complessità del tema che stiamo trattando. Perché dobbiamo definire i concetti come eventi, il tempo, capirai, distingue fra oggetti fisici, oggetti estratti, fra oggetti e sostanze, capire cosa sono le relazioni fra le classi e soprattutto cosa sono le classi e poi nel successivo modulo didattico cerchiamo anche di capire come rappresentare addirittura attitudini mentali, le chiamiamo così, cioè le credenze, i desideri, le intenzioni per cercare di far evolvere i nostri agenti artificiali sempre più in maniera tale da poter somigliare a degli agenti umani. Ma il problema della rappresentazione della conoscenza presuppone che si possa effettivamente avere una rappresentazione della conoscenza del mondo, e noi, ripeto, questo lo chiamiamo un'ontologia, che possa rappresentare il mondo in classi, come vediamo qui per esempio, tutto, questa è un'ontologia che potrebbe in qualche maniera voler tentare un'ontologia delle cose del mondo, tutto può essere diviso fra oggetti astratti o eventi generalizzati, ma se seguite questo schema, questo albero che vuole in qualche maniera individuare delle categorie astratti entro cui collocare tutto lo scibile umano, perlomeno quello che vedete qui rappresentato è un tentativo, al di là di quelle che sono le possibili discordanti sostanziali dei termini che vediamo qui scritti in inglese, è anche un po' sicuramente discutibile. In effetti avere un'ontologia, posso dire questo che per il momento avere un'ontologia, e cioè poter avere un significato condiviso e condivisibile fra macchine ed esseri umani, dei simboli che vengono utilizzati per rappresentare la conoscenza, è possibile solo in domini molto specifici. Quindi un'ontologia cosiddetta di dominio può avere oggi un successo, un'ontologia general purpose, credo che ancora siamo un pochino forse distanti dal poterla concepire. Certo che poter avere il Semantic Web, di cui si parla tanto da una quindicina d'anni a questa parte, avere una tale ontologia ovviamente è fondamentale, e l'importante però è poter avere una categorizzazione perlomeno degli oggetti, delle categorie di oggetti più comuni, quelli per esempio che si usano nel commercio elettronico, ad esempio. Molto più facile, come dicevo, è riuscire a avere un'ontologia di dominio specifica per certi settori. Per esempio, abbiamo ormai più problemi a definire ontologie specifiche per la progettazione di circuiti digitali, ovviamente. Abbiamo degli agenti intelligenti ormai che sono in grado di progettare i circuiti digitali, e qui l'ontologia, una ontologia specifica tutto sommato fatta di pochi elementi, definire il tipo di porte, ad esempio, definire come rappresentare i collegamenti fra i terminali di ingresso e di uscita di alcune porte, come definire i segnali, e basta sostanzialmente. Quindi questa è un'ontologia primitiva, è facile rappresentarla. Ma in domini complessi le questioni sono, appunto, molto, molte. Perché non c'è neanche, tutto sommato, concordanza, come magari discuteremo anche fra un attimo, sui significati da attribuire ai simboli e sulle categorizzazioni della conoscenza. e quindi sarà difficile poterne avere una che sia condivisa. La condivisione di un'ontologia consente la interoperabilità, cioè la condivisione di un'ontologia è alla base dell'ottenimento della cosiddetta interoperabilità di sistemi anche non intelligenti, insomma, sistemi informatici diversi. Un settore dove si è sentito molto il bisogno di avere un'ontologia condivisa fra sistemi diversi è la medicina. Per esempio, qui c'è un'ontologia di basso livello, viene definita così, adesso non ho ancora elementi per poter essere più specifico, che viene effettivamente derivata dall'inglese, si basa su una terminologia in inglese, che viene utilizzata in ambito medico per poter definire concetti che hanno a che fare con la medicina. Questa è un'ontologia che viene detta SNOMED CT, che è utilizzata in quasi tutto il mondo, meno che in Italia, non so perché, e che a tutto cinque anni fa, mi pare di ricordare, aveva già tassonomizzato circa 140.000 concetti, categorie, e era costituita da circa 1.200.000 relazioni fra eventi e categorie di oggetti e proprietà, insomma, un'ontologia abbastanza complessa, ma anche problematica, come stiamo per vedere, e la prenderemo come esempio. ma la definitiva di un'ontologia, appunto, comporta anche il rischio di cadere in un'ontologia che vi ho appena introdotto, SNOMED CT, ad esempio, essendo molto grande, ed essendo stata costruita sulla base della collaborazione di tanti esperti, ma soprattutto a caso della sua grandezza, ha incorporato tutta una serie di errori che potrebbe essere interessante a vederne alcuni per avere il senso della complessità della definizione di un'ontologia. Per esempio, qui abbiamo una tipologia di errori abbastanza frequente, riscontrata anche qui in SNOMED CT, è che avere grandi ontologie comporta l'introduzione di errori di sussunzione fra concetti che dovrebbero essere uno sussunto dall'altro, però in una catena lunga di sussunzione si possono trovare anche degli errori. Per esempio, se andiamo a utilizzare uno strumento per esaminare l'ontologia, questo qui, per esempio, l'ontologia SNOMED CT è stata esaminata da uno strumento, un tool, open source, che si chiama Protégé, e l'andiamo a leggere a tratti, a pezzi, vediamo che da una parte, ad esempio, c'è il concetto di bevanda alcolica, che è una sostanza che ha un cosiddetto genitore, quindi una categoria sostanziale che dovrebbe comprendere quella lì, che è alcol ingestibile, perché una bevanda alcolica effettivamente è alcol ingestibile. Qui nella parte sinistra. Se andiamo a esaminare un'altra parte della sinistra-ontologia SNOMED CT, vediamo che alcol ingestibile è sussunto dal concetto di alcol etilico e anche dal concetto di sostanza di abuso. Ora, mettendo insieme queste due parti dell'ontologia, ne risulta che una qualunque bevanda alcolica è sostanzialmente interpretabile come una sostanza d'abuso. Inoltre, è una bevanda che contiene alcol etilico, che è basata su alcol etilico. Entrambe queste sussunzioni potrebbero non essere vere, anzi, non sono vere. Il concetto di sostanza di sostanza è la scienza che studia, è una disciplina della filosofia, sostanzialmente, il pensiero che studia le relazioni fra le parti di un oggetto. Cosa significa? Cioè che un oggetto è parte di un altro oggetto e se un oggetto è parte di un altro oggetto ne eredita le proprietà, sì o no, o l'oggetto che comprende l'oggetto più piccolo ha le stesse proprietà dell'oggetto più piccolo, o cose di questo genere. Questi sono i temi che tratta la mereologia. E qui, guardando sempre la stessa SNOMED CT, vediamo per esempio che, a un certo punto, c'è che la struttura del nervo tibiale è stata considerata sussunta sia dalla coscia, che è la parte alta del corpo, che dalla parte inferiore, dal polpaccio. Dunque, l'overleg structure e tight part body structure. La domanda è, ma un oggetto può essere sussunto da due oggetti che sono scollegati fra di loro? Se la risposta è no, questo è un errore. Ancora, l'ontologia SNOMED CT, il concetto di fumatore. Il concetto di fumatore è sussunto nell'ontologia dal concetto di finding a tobacco smoking behavior. Cioè, sembra che il fumatore sia sussunto da un comportamento, il concetto di fumatore è sussunto da un comportamento. Va bene che sia sussunto dal concetto di utente di tabacco. ma qui l'errore è considerare la specifica di un individuo, sostanzialmente, come sussunto dalla specifica di un comportamento. È chiaro che qui è probabilmente questo è stato un errore fatto da qualcuno che ha collegato questi due concetti all'interno dell'ontologia SNOMED CT in maniera probabilmente forse non corretta. Ancora, a volte alcuni collegamenti che dovrebbero essere scontati in realtà non vengono notati, non vengono annotati all'interno dell'ontologia. Per esempio, labbra screpolate, il concetto di labbra screpolate, qui vediamo nella parte sinistra, evidenziata con questo protégé, è figlia della constatazione dell'aspetto del labbro. Giusto? Sì, effettivamente può essere fatto questo collegamento. D'altronde, anche da un'altra parte dell'ontologia, vediamo che c'è il concetto di labbro leporino, che è una deformazione del labbro, e anche questo dovrebbe essere collegato alla constatazione dell'aspetto dell'abbro, ma nell'ontologia manca questo collegamento. Ancora, è c'è la possibilità di possibili potenziali errori nella definizione dell'ontologia, abbiamo forse, insomma, questo è un errore quasi forse inevitabile, non lo so, il concetto stesso di malattia, che è un concetto discutibile, nel senso che non trova probabilmente il sostesso delle definizioni univoche all'interno della medicina, non so se è vero quello che sto dicendo, ma potrebbe essere così, allora, abbiamo il concetto di medicina, che quindi è un concetto primario, primitivo, all'interno dell'ontologia, come condizione anormale di un organismo, lo troviamo insomma i DCT, sussunto da clinical finding, che è un risultato di osservazioni cliniche, questo non è corretto da un punto di vista medico, perché la malattia di per sé non è un risultato di un osservazione, non è sussunta dal concetto di osservazione clinica, è un qualche cosa che non può essere direttamente sussunto, perché sono due concetti diversi, un conto è l'osservazione clinica, un conto è la malattia, appartengono ontologicamente, hanno delle essenze diverse, quindi avviamo questa unità didattica un po' un po' fumosa, se volete, però è fumosa secondo me perché è davvero complesso e se volete un po' fumoso è l'argomento di cui trattiamo in questo modulo didattico, quindi la ontologica, cioè lo studio delle proprietà dell'essere, il ragionamento sulle proprietà dell'essere, è un qualche cosa che ci accompagna da quando è nata la filosofia e se volete ripeto si aggiunge anche tutta la limitatezza culturale di noi tecnici informatici, noi ereditiamo comunque molto brevemente una certa difficoltà, una certa confusione, una certa se volete appunto complessità di tematiche che al momento si riflettono all'interno dell'intelligenza artificiale senza che ci sia una trattazione definitiva di questi argomenti chiara, cioè è abbastanza chiaro come produrre il ragionamento, non è abbastanza chiaro come far sì che le formule che sono oggetto di ragionamento possono essere mappabili su concetti di una valenza indiscutibile per gli esseri umani nella realtà che le formule stesse vogliono rappresentare. Quindi non c'è concordanza e questo è il primo problema nelle ontologie. Io sono penso 50 anni che vivo quotidianamente nella musica eppure mi vergogno di dire che nonostante questo amore spassionato per la musica sarà la mia ignoranza ma io ancora non ho capito cosa si intende per musica pop cosa si intende per musica rock cosa si intende per musica beat quello forse magari un po' più semplice perché magari è collegabile a un periodo storico o cosa si intende per musica blues o gospel quello magari un po' più semplice perché il significato della parola ti aiuta però c'è tanta confusione sul significato degli aggettivi delle parole nel giorno d'oggi e quindi questa confusione negli esseri umani dopo si riflette proprio come confusione nella classificazione delle categorie degli oggetti all'interno dell'intelligenza artificiale quindi questo avrà una conseguenza negativa sull'interoperabilità come dicevo prima e devo dire che la logica matematica stessa la logica primordia che abbiamo conosciuto non è che effettivamente aiuta nel cercare di rappresentare la conoscenza in maniera soddisfacente perché la conoscenza matematica appunto come dicevo all'inizio era nata per rappresentare concetti astratti che erano numeri e quindi tutto sommato aveva un contesto di significato molto definito molto chiaro e quindi la rigidità della logica era utile in quel contesto non torna utile adesso quando invece i concetti sono così sfumati e vorrei chiudere questa unità didattica trattando più da vicino alcuni problemi che sono proprio tipici problemi alcuni concetti importanti nella logica nell'intelligenza artificiale e cioè io vorrei sottolineare il fatto che abbiamo visto che la logica ci consente di fare inferenze che non sono deduttivamente valide l'induzione e l'abduzione e questo è veramente molto potente però ci comporta un po' di confusione quando andiamo a attribuire dei significati perché ci accorgiamo che siamo in grado di fare confusione e di andare a fare induzione poi vedremo magari dei casi o abduzione in maniera abbastanza discutibile lo vedremo nella vedremo degli esempi nella prossima unità didattica questi erano esempi che sono stati introdotti da Wittgenstein da Quine negli anni 30 e negli anni 50 dovremo imparare a gestire le eccezioni e quindi avere a che fare con la conoscenza e con l'ontologia in qualche maniera ci comporterà che dovremo consentire alla logica di diventare non monotonica ma questo ne parleremo in un successivo modulo didattico e il fatto che l'ontologia di dominio dipende dal contesto mal si accorda con la logica il quale la logica come l'abbiamo vista fino adesso è qualcosa che è indipendente da una contestualizzazione una certa formula ha dato una certa semantica è vero o falsa non è vero o falsa indipendenza del contesto in cui si usa o la si considera quella formula la stragrande maggioranza della conoscenza che noi esseri umani utilizziamo e devo dire che anche gli esseri artificiali cioè i software utilizzano tutt'oggi non è espressa in maniera dichiarativa ma è una conoscenza espressa in maniera algoritmica è una conoscenza procedurale noi sappiamo come risolvere problemi ma se dovessimo dimostrare un teorema riguardo quel problema se dovessimo teoremizzare il problema che risolviamo non saremmo in grado di farlo non saremmo neanche in grado di rappresentarlo in forma dichiarativa la soluzione del nostro problema noi sappiamo risolvere certi problemi perché dall'esperienza abbiamo imparato a risolverli ma noi stessi non abbiamo una capacità chiara in molte circostanze di poter rappresentare il problema che siamo in grado di risolverlo e capire perché lo risolviamo semplicemente lo risolviamo sappiamo come fare una cosa ma non sappiamo perché la sappiamo fare poi chiudo questa unità didattica dicendo che la logica ha da confrontarsi se vuole passare dal dominio in cui è stata pensata cioè quello della matematica al dominio della conoscenza di senso comune dovrà gestire le problematiche legate all'incertezza e le problematiche legate alla vaghezza ora queste due problematiche spesso sono confuse anche perché vedremo sono trattate sostanzialmente introducendo nella logica dei numeri in particolare la teoria della probabilità per rappresentare la conoscenza incerta e la fuzziness la logica fazzi che in qualche minera si ispira alla logica probabilità ma è molto diversa per rappresentare la vaghezza perché questi due concetti incertezza e vaghezza sono due concetti diversi vorrei chiudere questa unità didattica per vorrei chiudere questa unità didattica distinguendo proprio questi due concetti che spesso vengono erroneamente confusi per esempio io posso dire quella persona secondo me è praticamente calva ecco quando io dico quella persona è calva uso un aggettivo calvo il quale ha un significato quindi una ontologia che è discutibile perché non sappiamo esattamente cosa significa essere falso se vogliamo dare un significato concreto diretto se vogliamo dire distingue una persona calva da una persona non calva non sarà facile quello che si fa si potrebbe fare per esempio è prendere 100 persone e cominciare a dire a fare domande del genere se una persona non ha capelli zero capelli è calva e tutti quanti sono d'accordo a dire sì allora 100% zero capelli calvo un capello è calva sì e così via man mano che il numero di capelli dovesse crescere piano piano qualcuno potrebbe cominciare a cambiare idea magari uno che ha 500 capelli per qualcuno è ancora calvo per qualcuno invece non è più calvo e quindi la l'appartenenza all'insieme dei calvi non è un'appartenenza crisp come dicono gli inglesi sì no ma è discutibile quindi avremo nella logica fasi una funzione di membership è che dato un certo numero di capelli ti farà ti specificerà ti specificerà l'appartenenza di quel soggetto che ha quel numero di capelli alla 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 classe delle persone calve con un certo grado di appartenenza che va da 0 a 1 siccome poi questo grado di appartenenza va da 0 a 1 spesso la la fuzziness è confusa con la teoria delle probabilità che pure le probabilità vanno da 0 a 1 come sappiamo probabilmente altra cosa invece la conoscenza è incerta io potrei dire quella persona ha 283 capelli ma non ne sono sicuro cioè non ne sono sicuro un concetto che per esempio potremmo prenderlo sempre dalla tua probabilità come dire io non so mi giocherei tot per cento dei soldi che ho sul fatto che abbia 283 capelli il quanta percentuale del mio capitale scommetterei sul fatto che ha esattamente 283 capelli rappresenterebbe il grado di certezza che io ho sulla frase che ho fatto la frase è del tutto priva di vaghezza e cioè esprime un concetto chiaro un concetto crisp la categoria delle persone che hanno 283 capelli è chiarissima o una persona ha 283 capelli e quindi ne fa parte oppure ne ha uno di più o uno di meno e quindi almeno uno di più o almeno uno di meno e quindi non ne fa parte ma è incerto se quel soggetto di cui si sta predicando appartengono a quella categoria quindi incertezza e vaghezza sono due concetti diversi che infatti nell'intelligenza artificiale vengono vengono gestiti da logiche diverse una è la logica delle probabilità e vedremo come entra la probabilità avremo anche le belief networks e altra cosa è invece la vaghezza che è il concetto di falseness che ha tutta altra trattazione comunque anche queste due problematiche contribuiscono a rendere così difficile e così impegnativo il tema della della ontologica e cioè dello studio delle proprietà dell'essere e di come queste possono essere rappresentate con concetti e con frasi di un certo linguaggio nella prossima unità didattica vedremo di entrare nel dettaglio di queste problematiche partendo dal concetto più importante di tutti il concetto principale della rappresentazione della scienza che è la categorizzazione degli oggetti cioè l'introduzione di questi oggetti all'interno di una trassonomia di concetti che verranno denominate classi di di le di di di